Il patrimonio residenziale mediamente vecchio è inefficiente sotto il profilo energetico, un problema che tocca il portafoglio delle famiglie che vi abitano, ma che ha anche ricadute negative sulle nostre città. Gli edifici sono responsabili del 40% del consumo globale di energia e di conseguenza delle emissioni in atmosfera. All'efficientamento dei condomini è stato dedicato il convegno organizzato da Ance, Lecco e Sondrio in collaborazione con a EVV Impianti, gruppo ACSM Agam, insieme agli ordini professionali. Al centro dell'incontro l'innovativa convenzione Valore Casa Più, che permetterà di realizzare interventi a costo zero per i condomini, considerando il risparmio energetico in 10 anni. L'accordo prevede una partnership fra l'azienda EVV e l'Ance, in modo da andare a fornire un servizio rivolto agli amministratori di condominio per incentivare quelli che sono gli sviluppi di interventi di efficienza energetica, nella fattispecie dell'eco bonus, con il valore aggiunto che viene dato dalla società EVV dell'acquisto del credito d'imposta che viene generato per questi tipi di interventi. Lo scopo dell'accordo è proprio quello di acquistare il 70-75% del credito d'imposta che si viene a generare e quindi far pagare ai condomini solo la restante quota. Lo scopo dell'accordo è anche quello di arrivare proprio a compensare questo esborso economico da parte dei vari condomini con il risparmio energetico, quindi far sì che alla fine il risparmio energetico compensi il costo residuale dell'investimento, quindi arrivare a un costo zero per il condomino con la massima trasparenza. Noi abbiamo fatto questa convenzione che di sicuro dà un grosso aiuto economico perché è chiaro che un intervento che costa 100 alla fine per i condomini costa soltanto 30 perché il 70% viene assorbito da EVV. È una cosa che bisogna cogliere anche abbastanza in fretta perché oggi c'è ma magari domani cambiano tutte le leggi e questa opportunità potrebbe non esserci più, quindi è una cosa da cogliere subito perché oltre a questo notevole risparmio c'è anche sicuramente un miglioramento dell'aspetto delle nostre città e oltretutto dovrebbe esserci anche un grosso risparmio energetico per cui un minore inquinamento e altrimenti si parla sempre di green economy ma nella realtà si fa poco, invece questa è davvero una grossa opportunità. Grazie. Grazie.